Cari amici, cari bambini, che siete gli ospiti d'onore stamattina, che cosa stiamo facendo? Stiamo ufficialmente inaugurando l'impianto fotovoltaico realizzato sul tetto di questo edificio che già da alcune settimane trova la sua alimentazione dalla luce del sole. Risparmiamo, non usiamo gasolio, comunque energie che si vanno esaurendo e che soprattutto non sono salubri, usiamo soltanto la luce del sole. Adesso, tra cinque minuti, saliremo insieme, i bambini, e vedrete a vedere di che cosa si tratta. In maniera tale che io credo che le vostre insegnanti poi vi potranno dare dei raguagli migliori rispetto alla conoscenza di quello che andrete a vedere. Dovete soltanto sapere adesso che così noi aiutiamo l'ambiente e risparmiamo sulla bolletta elettrica. Il sindaco ci tiene tanto a risparmiare sulla bolletta elettrica perché quando è arrivato qua, un annetto fa, ha trovato le bollette di dieci anni fa che non erano state pagate. E con molta fatica stiamo tentando di pagare gli arretrati che abbiamo trovato. Ma non crediate che è finita qua, lo dico anche ai più adulti, perché abbiamo, per l'ingegnere Tommaso Monaco, abbiamo altri impianti che sono stati pure realizzati, ma che ancora non sono in produzione di energia elettrica. Tommaso Monaco è un ingegnere, ma quando? Non mi porterà anche sugli altri impianti a fare la stessa cosa che stiamo facendo qua. Questa, per l'ingegnere Tommaso, non è un invito ma è una minaccia. Quindi sappi che avrai il tuo sindaco dietro le spalle perché quando io trovo un professionista bravo, capace, onesto, intelligente, certamente non gli lascio il tempo di stare senza fare nulla.